In questo video i pasticciotti ti insegnano a realizzare un biglietto di Natale con un albero in stile Kandinsky. Ti servono solo cartoncini colorati, forbici e colla. Innanzitutto dai cartoncini colorati ricava tanti cerchi di colori e dimensioni diverse. Prendi poi un cartoncino nero e piegalo a metà. Sarà la base del nostro biglietto natalizio. Con matita e righello traccia un triangolo isoscele lasciando 3 o 4 cm di spazio nella parte inferiore del foglio. Ora distribuisci i cerchietti colorati all'interno del triangolo e incollali qua e là, senza seguire uno schema preciso. Trattandosi di cerchi, ovviamente, dovranno parzialmente fuoriuscire dai lati del triangolo. Usa i cerchietti più piccoli per coprire lo spazio nero rimanente tra un cerchio e l'altro. Quindi, incolla al centro di alcuni cerchi più grandi, dei cerchietti più piccoli. Il bello di questa attività è che non c'è uno schema preciso da seguire. Ognuno, infatti, seguendo la propria fantasia, potrà realizzare un albero di Natale in stile Kandinsky assolutamente personalizzato. Sulla cima, noi abbiamo incollato una stella ricoperta di glitter. Infine, sotto all'albero, scrivi Buon Natale o un altro augurio natalizio a tua scelta. Bello vero? Provaci anche tu! Ciao e al prossimo video! E Buon Natale a tutti! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare un mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso Iscriviti e sulla campanella di fianco.